Grazie Presidente. Intervengo perché in realtà io vorrei attualizzare questa delibera che parte da lontano, che però sta vedendo luce proprio adesso con questa amministrazione e devo dire che durante le commissioni congiunte patrimonio e lavori pubblici è stato molto bello vedere il viso del direttore del Municipio 10, veramente contento perché il Municipio si è speso moltissimo per questa realizzazione, per recuperare questo immobile e quindi vedere finalmente coronare questo sogno perché sembrava una cosa lontanissima, ma come tante cose a Roma che si perdono nei meandri, vedere finalmente la luce perché questo accordo di programma il cui schema andiamo a votare con questa delibera permette proprio di iniziare i lavori in questo immobile ma soprattutto delinea i rapporti tra la Regione Lazio, il Comune di Roma e il Ministero di Giustizia che era importantissimo proprio per fare in modo che partissero i lavori, che venisse riqualificato l'immobile per poi dopo più in là dargli appunto una collocazione e decidere gli uffici da mettere. Quindi io volevo proprio sottolineare l'importanza per tutto il territorio del Municipio 10 che si è vista nell'espressione del direttore del Municipio stesso perché credo che come ho detto in quell'occasione questo immobile abbia anche un significato simbolico, questo immobile è importante per quel territorio e che quindi è giusto che finalmente venga riqualificato. Grazie Grazie a lei, ci sono altri interventi in discussione generale? Non vedo interventi